E buongiorno ragazzi sono Federico Time ed eccoci tornati in un nuovo video Qui in questo nuovo video andremo a fare alcuni pack opening Un bel giochino che potremo anche fare così tranquillamente insieme Tra di noi per fare la squadra nostra Il gioco consiste nel prendi, io faccio adesso 9 bigliettini Ho scritto sempre il numero da 1 a 9 E a estrazione ve lo faccio vedere senza guardare Nella estrazione senza guardare proverò a estrarne 1 In teoria l'u... Estrarne 1 cavolo Nel senso che chi mi esce esce In teoria l'u1 dovrebbe essere quello più forte del mio capito Non me ne intendo molto di questo gioco però possiamo andare Quindi andiamo col più opacco Aspettate tutto in pausa e faccio i bigliettini Adesso qui ho tutti i bigliettini Tutti i bigliettini bellissimi Ecco tutti i numeri Scusi di gioco e salgo Mischio un pochino 8 E' uscito l'8 E' l'8 e? Poi quello quant'ha? Ah, colonne o arighe? Vabbè arighe Mora Ok, scrivo Mischio la mora Perfetto Andiamo con il secondo pacchetto Secondo pacchetto Mora Germano Sperano In due O in un quattro Uno Allora Andiamo con il secondo Con il terzo pacchetto adesso Abbiamo già due attaccanti Con il terzo pacchetto Chi è questo? Il terzo Giardello E' questo No Pablo Hernanes Vabbè adesso mi insegno Tanto faccio Della fronte Arsenal Debo E questo è forte Speriamo che Mischio Almeno qualcuno forte Ci abbiamo Andiamo 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 E chi Mischio? Non è tanto preciso Aquino E' Messico Vabbè Sempre lo stesso Quarto pacco Quinto pacco Scusate Perché mi sbaglio sempre Francia Demblele Demblele Potente Da tanto Però vabbè Anche due Va bene Come portiere Bauman Pronto Adesso Stacco Cinque Chi è cinque Un poco E' Goku E' Goku E' Goku E' Goku E' in verità Lui è Goku Non ve ne pentirete Fidatevi E' lui è Goku Ne sono sicuro Lo vedo Ha camuffato il suo nome Però lui E' in verità E' Goku Quindi Ci andremo a prendere Goku Qui lo segnerò Come Goku E' il 76 Aspettate Metto pausa Andiamo con il sesto pacchetto E troviamo Un bellissimo Ambenuare Ambenuare Penso che si legge In teoria Dal francese Estraiamo Chi è? Sei Oh Cinque sei Com'è? Zhangjie Zhangjie Abbiamo trovato Zhangjie E quindi Adesso non lo segno Poi parliamo un pochino Settimo pacchetto Dobbiamo arrivare A undecime Ricordo Questo chi è? Nastasic Nastasic Non lo conosco Abbiamo anche Maribo Nulla Niente Estraiamo Forse quattro Sì quattro Troviamo quattro Quattro E è Non l'ho neanche visto Tufan Meno Tufan Metto pausa E me lo segno Ottavo pacchetto Ne mancano solo tre Paris Saint Germain Jesse Buono Non è che ci starebbe scomura Quindi andiamo a ristrarle Non è che casino Che casino che ho fatto 9 Mvogo Mvogo Abbiamo trovato lui Abbiamo trovato Un giocatore Estremamente bellissimo Potete vedere dalla sua espressione Quanto è contento Mvogo Confidavo nell'uno Perché mi piace giocare Con il già Paris Saint Germain A FIFA Adesso mi sapeva Vado a fare Vado a fare Draft di FIFA Vado a fare Mi sono stufato Quelli veri No questa St'applicazione è brutta Però Se lo faccio per voi Ricordate che lo faccio per voi Per non farvi mancare I contenuti E mi sono fatto male Quindi Abbiamo scritto Mvogo Da 75 Mvogo 75 E un portiere addirittura I meglio portiere Next pack Chi troveremo Sempre oro Che bandiera Non me la riconosco mai Anderson Andiamo a riassare 4 Aquilani Troviamo Aquilani Oh Un bellissimo 6 No 6 mi sa che è uscito 2 o 3 No eh 4 Aquilani Ok Sotto pausa Ecco Questo siamo al decimo Il penultimo Di questa E Zuma E Zuma Estraiamo 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 Un bellissimo Un bellissimo Numero Ok 1 Un numero 1 Abbiamo trovato numero 1 Che poi tra l'altro è il giocatore più forte che abbiamo trovato Vabbè Vabbè Next pack Apriamo subito Dai Che cosa è Non conosco tanta Cruz E andiamo a distrarre Allora Che abbiamo trovato 6 Il numero 6 Abbiamo trovato Numero 6 Perfetto Bellissimo Il nostro squad Eccolo Questo di qui L'unica intesa che abbiamo è tra Henderson ed Embley I unici due abbastanza forti che abbiamo trovato E La nostra sfida non possiamo dire che è andata benissimo Però Qualcosa sono riuscito a portare finalmente sul canale Non riuscivo a portare video in alcun genere La wifi mi è morta in questi giorni Quindi non potevo neanche portare video Non potevo neanche portare video Di gameplay così Però non disperate che tra questi giorni Confido nel tempo E nella mia salute Perché anche Sono stato ancora male Confido nel tempo e nella mia salute Però In questo mese dicembre Riuscirò a portarvi partite di software Promessa da Federico Taim Da Federico Taim è tutto Au revoir raga